appassionati di calcio ben ritrovati vi invitiamo all'ascolto di Juventus una signora per due cari amici ben ritrovati nuova puntata Juventus una signora per due Ezio come stai? Ezio sta assolutamente bene in forma leggendaria saluto anch'io tutti gli amici ma soprattutto le amiche di Juventus una signora per due abbiamo con noi un graditissimo ospite un ritorno in questo podcast e quindi abbiamo il piacere di avere di avere dillo tu Sandro Mosca buonasera Sandro buonasera a voi buonasera a tutti i nostri come li possiamo definire ascoltatori perché siamo alla radio alla fine tra l'altro vi annunciamo che presto arriveremo anche sul canale tubo eh capito? Sandro la nostra platea è fatta anche e soprattutto di Juventini Sapiens quindi una genia abbastanza selezionata volta a nobilitare la partecipazione a questo a questo programma e a premiare anche consentitemi di dirlo lo stile che Massimo Tadorni sottoscritto e gli ospiti che invitiamo e che desideriamo siano coerenti con questo con questo stile normalmente ci supportano ci supportano spero non sopportano durante durante queste mezz'orette eh per le quali ho avuto dei riscontri simpatici ci sono persone che mi dicono Massimo sì mi tenete compagnia in macchina nel tragitto dal lavoro da casa al lavoro o dal lavoro o dal lavoro a casa ed è ed è bello tutto tutto questo è anche uno dei motivi per cui si fanno volentieri queste cose che sembrano ascoltate, viste, lette, sembrano sembrano leggere, sembrano fatte anche per divertimento ma vi assicuro che dietro c'è tanto 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 lavoro. Sai io mi sono chiesto e è un quesito che voglio porre anche a Sandro del perché la Juventus ultimamente sia così greve nelle sue comunicazioni, dobbiamo parlare di gli addi, uno degli addi eccellenti, un saluto è quello di Paolo Di Bala ma sono stati tutti un po' sofferti quelli del passato Roberto Baggio, Alex Del Piero, insomma ce ne sono di momenti non troppo felici, momenti catarsici, accompagnati spesso e volentieri da una comunicazione meno ruvida che mi sembra, io mi riferisco naturalmente ad Arriva Bene, non so partiamo proprio da questo, con l'amico Sandro, qual è l'impressione che ti dà questa nuova Juventus perché ti dà veramente l'aria di qualcuno che con l'accetta stia tagliando, rami secchi che poi tanto secchi non sono. Lavorando nell'ambito della comunicazione della pubblica amministrazione allo stato attuale avendo fatto per dieci anni consecutivi il capo ufficio stampa responsabile comunicazione di una società professionistica di calcio, evidentemente un po' la studio la situazione, devo ammettere che sono lontani i tempi di Moggi e della triade alla Juventus a livello comunicativo e ammetto anche che con la dipartita di Marotta quando è passato e è andato via dalla Juventus un po' la comunicazione ne abbia risentito, in primo luogo perché Paratici che peraltro è piacentino, conosco, non è secondo me la persona più adatta a rappresentare sotto l'aspetto comunicativo quello che era Marotta nella prima e dopo la partita, è un po' perché gli attuali collaboratori che fanno parte dello staff presidenziale secondo me lasciano un po' a desiderare quando si devono esprimere, non sotto l'aspetto significativo nel senso che noi capiamo quello che dicono, si lascia un po' il tempo che trova sotto il profilo comunicativo, nel senso che si fa parlare i giornali, purtroppo sono dei giornali e non mi riferisco certamente a tutto sport che o della Juventus parlano male oppure non ne parlano proprio, si possa assicurare che la Juventus non gode di tanta stima tra i giornalisti? Sandro, questo è tutto assolutamente vero, però dà un po' di tempo, un po' troppo in verità a questa parte, la deriva che ha imboccato la comunicazione riguardo a tutto quello che è inerente alla Juventus è veramente una deriva estremamente deplorevole, è una macchina del fango con i ventilatori sempre accesi, ai quali la società oppone un silenzio vogliamo chiamarlo sdegnato, arrogante, snobistico, come ognuno attribuisca l'aggettivo che preferisce, in punta di fatto però io capisco il malcontento tifoso che ogni tanto, una volta o due l'anno, come faceva Giampiero Boniperti, prenda fermamente e duramente posizione e in questo prendere posizione almeno per qualche tempo, finché dura, rispedisca ogni pagliaccio al suo circo i pretendenti al trono sul seggio più consono e questo a base di querele, il buon Zeffirelli parlandone da vivo, ma è l'unico che gli ha fatto pagare, ne pagò ben più di qualcuno, in punta di fatto questo silenzio ad un certo punto diventa pernicioso perché dà adito ad una serie di interpretazioni svariate, non si sa bene quanto corrette ed anziché tacitare determinate cose, al mio avviso tiene l'effetto opposto nell'alimentarle. Poi io sono anche d'accordo sul fatto che non è che si possa rispondere a tutto e a tutti, anche perché normalmente questi tutti sono composti da una genia eterogenea di personaggi talvolta senza artene parte, che litigano con le competenze calcistiche nello stesso modo con il quale litigano con la lingua italiana, insomma gente credibile alla quale rispondere alla fine della fiera non è che ce ne sia tantissime. Io capisco che non la si voglia legittimare perché nel momento in cui rispondi a una provocazione, a un insulto, a un'insilvazione in qualche modo legittimi colui che l'ha portata. Però c'è anche un limite a tutto, ci sono stadi intermedi di grigio tra il tutto bianco e il tutto nero. Sì sì, sono assolutamente d'accordo con Ezio, perfetta la sua analisi. Nello stesso tempo sono d'accordo sul fatto che a livello di stile la società Juventus non ha mai risposto per le rime alle accuse che le venivano poste, evidentemente c'erano accuse minori, accuse maggiori, però io sono d'accordo con Ezio sul fatto che preferirei da tifoso, non da comunicatore né da giornalista, una società, dico che risponda tutti i giorni a qualsiasi tipo di… anche perché poi sarebbe difficile, poi l'evoluzione della comunicazione è andata avanti sui social, prima era un po' diverso, però in un certo senso maggior rispetto io me lo aspetterei, maggior rispetto e soprattutto una situazione di interventismo da parte della Juventus in riferimento soprattutto ai grossi organi di stampa. Quindi non soltanto da Casetto Sport ma anche da Sessarai, Mediaset che spesso con personaggi assolutamente anti-juventini facevano opinione a qualsiasi ora sparando a zero contro la Juventus. Ma vedi Sandro, perdonami, si è favoreggiato molto in passato su quello che veniva definito lo stile Juventus. Se non c'è più Ezio, dai. Sì, non c'è più, ma quello che io voglio dire è anche un'altra cosa, che questo stile alla fine, se uno va a vedere fino in fondo le cose, essendoci stato anche con un piedino in qualche modo dentro. L'espressione di questo stile era incarnata soprattutto da personaggi di un'immanenza universale. Lo stile di personaggi dal carisma, dall'importanza, dell'autorevolezza dell'avvocato Giovanni Agnelli o del fratello del dottore Edoardo. Erano, come dire, delle calamite che in qualche modo calamitavano l'attenzione distogliendola esattamente dalle cadute di stile che comunque c'erano. Però nel momento in cui loro si esponevano, stendevano questo mantello sabaudo, regale, torinese, anche su tutta la società e questo veniva chiamato stile Juventus. In soldoni o in parole povere a noi oggi manca un personaggio veramente autorevole che nel momento in cui apre bocca zittisce tutti e che comunque sia in qualche modo temuto. Senti, aggiungo una cosa, una volta l'avvocato sintetizzava molto bene con i suoi pensieri uno stato di cose, lo stato dell'arte, riusciva a dare delle definizioni molto chiare e inequivocabili. Adesso noi ci troviamo di fronte a una società che non ha più l'eleganza di un tempo, nei modi in cui comunica ed altro, che sta facendo davvero di tutto per risultare antipatica. E devo dire che ci sta riuscendo. Ci sta riuscendo perfettamente. Guarda, Paolino Di Bala per usare, una volta tanto parole non mie, adotto quelle dell'amico Lionello Savastafiore, è stato licenziato come una serva dell'Ottocento. Guarda Ezio. Non voglio mettersi in imbarazzo. Non è una questione di imbarazzo, francamente se parliamo dell'attualità, ti ripeto, Marotta era un personaggio che secondo me in un certo senso non era ai livelli di moggi ma ci andava vicino, nel senso come spessore, come modo di esprimersi, come diplomazia anche nelle risposte. Chiaro che se tu mi fai gli esempi di Gianna Agnelli, Umberto Agnelli, Gian Piero Boniperdi, stiamo parlando di fuoriclassi. Sì, ma stiamo anche parlando della Juventus, con tutto rispetto, non stiamo parlando della Rocca Cannuccia. Esattamente, hai detto bene, della Juventus. Allo stato attuale, come devo dirti, non posso essere rappresentato da un Edved o da un Cherubini, te lo dico con estrema sincerità, non sono all'altezza, ma nemmeno per colpa loro. Vediamo questo decisionismo da operetta, come lo definisco io, dove ci porterà. L'ultima cosa. L'ultimissima cosa perché poi… Meno due, due ultime cose allora. Vai allora. Senti Sandro, vedi possibile… abbiamo un Agnelli sempre più proiettato a livello internazionale sui progetti che ben conosciamo e meno concentrato sulla Juventus. Vedi possibile qualche cambio di scenario in futuro per la prossima stagione ai livelli di presidenza? bella domanda. Guardate la giro in un altro modo, con il ritorno di Calvo. Andrea Agnelli, si dirà nella Turca? Non lo so assolutamente. Io, ripeto, sono riconoscente ad Andrea Agnelli che secondo me ha fatto bene nella Juventus in questo decennio. Gli ultimi anni tutti possono sbagliare, aveva fatto qualche errore in più, però in un certo senso aveva tantissimo credito dalla sua parte. Io spero che qualcosa possa cambiare nell'ambito societario, ma non perché ci sia un estremo bisogno, perché secondo me finiscono dei cicli ed è giusto in un certo senso cercare di non ringiovanire, ma in un certo senso... Puoi inverdire, perché come finiscono i cicli degli allenatori, dei giocatori, a mio avviso vale anche per i dirigenti. Eh, zio, bravissimo. Io sarei tornato su Allegri, ma con tutto il rispetto per Allegri per quello che ha fatto. Era finito quel ciclo, sono stati cinque anni bellissimi, si era chiuso in un certo senso, quindi non capisco certe scelte. Ecco, io spero che le scelte siano dettate esclusivamente per il bene della Juve e no da motivi personali che poi portano... Guarda, sarei... anche perché dobbiamo chiudere, Sandro, ti dico, sono d'accordo con te, sarei tornato anch'io su Allegri con una Station Vega. Sandro, ti salutiamo e ti ringraziamo. Grazie ragazzi, è sempre un piacere parlare con voi, un saluto a te. Grazie Sandro, buona serata. Io sono molto contento, io sono molto contento, soprattutto devo ringraziare i ragazzi, devo ringraziare i ragazzi, io sono molto contento, io sono molto contento. Juventus, una signora per due. Eccoci qui pronti, stiamo chiamando il nostro amico tifoso, ci hanno scritto in tanti, esatto, risponderà sì. Sì, certo che risponderà. Paolo, buonasera. Diciamo Paolo e basta perché per motivi di privacy evitiamo in questo caso il cognome. Paolo, dove abbiamo telefonato? Allora, io sono di Monte Corice, in provincia di Salerno, in Campania. Senti, com'hai vissuto? Intanto benvenuto su Juventus, una signora per due. Grazie, grazie, grazie. Un saluto a Ezio. Grazie Paolo, altrettanto a te, è un piacere averti con noi. Beh, intanto ti diciamo, non so se tu sei un no max, si max, un dibaliano, un non dibaliano, insomma. Ah, sì, guarda, io sono un dibaliano e sono ovviamente anche un no max, ma per ragioni che Ezio conosce, nel senso che non sono senza motivazione, ecco, il mio no max non è un no max, diciamo, a prescindere. Diciamo che i no max sono ultimamente in crescita, perché lo vediamo, no? Dall'altra parte, televisivamente parlando, riceviamo davvero un sacco di critiche. Prima di parlare di Dybala e d'altro, volevo dirti, ma secondo te siamo di fronte ultimamente a uno stile Juventus, oppure stiamo un po' degenerando nella comunicazione, nel come è stato, come dire, salutato Paolo Dybala. Paolo, scusa, Paolo Dybala, Paolo, come sei d'accordo? Sì, 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 siamo anche i monni. No, guarda, sono d'accordo, cioè, credo che sia stata gestita molto male la vicenda, perché io molto spesso leggo anche, sono sui social, lo frequento spesso la pagina di Ezio, si dice spesso, si dice, vabbè, ma Dybala poi ha rifiutato l'offerta della Juventus. Allora, a parte il fatto che un'offerta viene fatta, ovviamente perché c'è una trattativa, nelle trattative non è che io gli offro 10, accettano praticamente, ma si cerca di trattare, quella è un'offerta del 2020 addirittura, quando il contratto mancava ancora due anni per la scadenza. Poi, tutti quanti sappiamo che l'offerta era stata fatta sei mesi fa, erano già ormai d'accordo su tutto, credo che sarebbe stato molto più opportuno per la Juventus solo comunicare al giocatore le reali intenzioni, piuttosto che farlo arrivare addirittura col procuratore in tede, addirittura col presidente Agnelli che non c'era neanche, insomma, mi sembra anche che Agnelli si è stato messo un po' ai margini, insomma, in queste trattative, non abbiamo visto più presentare i calciatori, non abbiamo visto più, come dire, fare le foto, insomma, delle firme dei contratti, vediamo che, insomma, è stato messo sempre un po' più ai margini nell'ultima gestione, insomma, da parte della dirigente. A me dà questa impressione, non lo so se sia vero. Senti Paolo, tornando sul tema che ho lanciato sui social, e quindi, ovviamente, io capisco che, soprattutto i ragazzini, i bimbi, hanno avuto in Paolino Di Mara il loro idolo principale, perché, insomma, per ovvie ragioni, ma noi che siamo tutti un po' più cresciutelli, probabilmente abbiamo sofferto, in passato, di altri addi importanti, anzi, sicuramente abbiamo sofferto di altri addi importanti, e vorrei che tu ci dicessi qual è quello che particolarmente ti ha destabilizzato come tifoso. Allora, guarda, è un bellissimo tema, nel senso che c'è un discorso da fare, nel senso che quando è accaduto, diciamo, questo allontanamento da parte di un calciatore, è quello che poi è stata la valutazione che abbiamo fatto con il seno di Toi. Nel senso, sicuramente, che ne so, quando ha lasciato Del Piero è stato un momento molto commolente, di grande, diciamo, unione da parte anche della tifoseria, insomma, è stato un momento molto toccante. Però devo dire che Del Piero, noi da tifosi, l'abbiamo un po' vissuto in tutte le sue spaccettature, no? Dal primo periodo, quando ha sostituito Baggio, insomma, è stato un crescendo continuo, quindi devo dire che più di quello non potevo aspettare. Io prima o poi dovevo ritirarti, voglio dire Del Piero, che era anche una certa età. Quello che mi ha lasciato invece molto l'amore in bocca è stato l'addio di Zidane, ma per due motivi, fondamentalmente. Il primo perché io, diciamo, Zidane l'ho amato tantissimo, ma io perché amo tutti i calciatori che sono molto, diciamo, tecnici, quindi Zidane era anche un grandissimo fantasista. Ma perché con Zidane avevamo fatto due finali consecutivi di Champions, che erano andate male, tre semifinali consecutive, se contiamo anche quella con il Manus Serenakis del 99, sappiamo tutti come finì poi, insomma, in malo modo, però eravamo anche in vantaggio. E poi devo dire la cosa più brutta, che quando è andato via, ci sono stati due aspetti. Il primo che non l'abbiamo sostituito con un calciatore che avesse le stesse caratteristiche. Questa cosa, ovviamente, è stata anche, diciamo, un errore da un certo punto di vista, no? È diventato un evento molto muscolare, con Ned, perché era grandissimi giocatori, abbiamo preso Duram, perché era Buffon, abbiamo rinforzato la squadra, però poi, se andiamo a vedere, insomma, non abbiamo ottenuto quei grandi risultati in Champions, tranne la finale, insomma, nel 2003, pure quella festa. Mentre invece Zidane, l'anno successivo va a Madrid e vince una Champions con un gol strepitoso in finale. E poi, da quel momento, l'abbiamo più acquistato i giocatori di quella qualità. Vogliamo arrivare fino agli anni receni, insomma, con David, quando abbiamo preso un calciatore di quelle potenzialità, di quel livello. Quindi questa cosa, insomma, ci ha segnato un voto. Parliamo di un arco di tempo di, praticamente, di 15 anni, 16 anni, se non di più. Ecco, un giocatore. Sai Paolo, uno degli addi più tristi, secondo me, è dove ho scoperto, grazie all'amico Carlo Nesti, che ci fu un po' lo zampino della società, è stato quello di Michel Platini. Lo Boniperti non volle grandi, come dire, celebrazioni. Un addio che è stato immortalato da una fotografia di Salvatore Giglio. Molto mesto. Molto mesto nel tunnel. Quello, forse, è uno degli addi che io ho sofferto di più e paradossalmente ho sofferto l'addio di Liam Brady. Sempre in quegli anni. Guarda, quel giorno, il giorno dell'addio di Michel Platini, piangeva al cielo insieme ai tifosi. Personalmente è stato l'addio che io ho sofferto decisamente di più. Per alcuni motivi, uno dei quali era che, ovviamente, come si poteva pensare di sostituire Michel Platini con qualcuno non più forte, almeno uguale, non esisteva. gli addi successivi, quelli di Zidane, quelli di Robertino Baggio, un altro per il quale ho delirato, quelli di Del Piero, ovvero, quelli avvenuti sotto un certo tipo di dirigenza, certo, mi hanno indotto molto rammarico, ma non una particolare sofferenza, perché ero assolutamente certo che comunque la squadra non si sarebbe indebolita, sarebbero riusciti comunque a costruire una formazione diversa, magari con meno impennate artistiche, a favore, certamente, di maggiore sostanza, però comunque una squadra sempre ai massimi livelli. L'addio di Paulino di Bala, e poi, tra l'altro, l'ultimo addio che ho patito è stato quello di Paul Pobba, che per me era il nostro Lebron James. Lì è andato via in maniera un po' indegnosa. E anche lì una brutta maniera per andare via. Paolo, noi stiamo quasi per salutarti, stai elaborando il lutto, mi pare di capire. Guarda, ci sono un po' di discorsi da fare, nel senso che di Bala sicuramente ha avuto dei problemi negli ultimi due anni, quindi è legittima la scelta della società di non rinnovare il contratto. Abbiamo detto, ovviamente, che ci sarebbe stato un modo forse più consola per farlo, soprattutto in vissuto del fatto che di Bala ha giocato sette anni con noi, quindi non era proprio l'ultimo arrivato. Quindi sarebbe stato opportuno. Poi, insomma, mi risponde sempre questo atteggiamento da parte della società quando deve far digerire ai tifosi un certo abbandono quando sa che un calciatore è molto amato nella tifoseria, insomma, dimetto con voi in cattiva luce. Questa cosa un po' l'ha fatta spesso la Juventus, anche il passato. È vero, è vero. Aspetta, cito due cose strane. La prima, l'uscita di un articolo a piena pagina nel Corriere della Sera il giorno successivo al momento della notizia che descriveva Di Bala come un boccio viziato che gioca con i Lego. Il bingo l'inchiato. Esattamente, esatto, per essere chiari. E poi oggi, stranamente, faccio proprio il riferimento tanto stiamo registrando a poche ore, Di Bala è il primo convocato in procura per essere sentito come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze. Va bene, a pensare male si fa peccato, ma ogni tanto... E' tutto stranamente casuale. E' tutto casuale, anche se mi garantisce sempre il velo Savastafiore che i PM sono assolutamente delle persone affidabilissime. Il giornalista però ci marcia un po'. Ok, forse il tifo, l'ideologia, va bene. Paolo, ti salutiamo. sui social, questa cosa è passata come il traditore che è davantiato. Ecco, a riguardo, dal momento, se lui dovesse andare in una certa squadra, ma non ci andrà, intanto perché non è in grado di garantire i soldi che vorrebbe Di Bala, ma se dovesse accadere, sono assolutamente certo che gli farebbe rindossare i panni del traditore, ma io dico, ma scusate, quelli che hanno stappato bottiglie di acqua di Pozzanghera per l'addio di Paolino Di Bala perché lo ritengono un bambino viziato, capriccioso, uso un termine orribile che non mi piace, ma che è sempre in bocca a questa gente, un bimbo minchia. Questa è la Bippo. Sempre rotto e mai decisivo, ma dovrebbero sperare che vada all'Inter perché uno così può solo indebolire un'avversaria, no? Giusto, non sognare e non giocare, esatto. Sognare sì ma ogni tempo. E io mi permetto di dire l'ultima cosa, che si stanno andando nei nostri tempi, io l'ho detto pochi giorni fa, ho detto, ma molto spesso leggo questa frase perché poi, diciamo, la comunicazione sulle pagine viene fatta un po' per adeguarsi a quello che è il sentire comune, no? Lo dice una una cosa, la dipendono tutti gli altri. Allora, Di Bala non ha fatto mai il salto di qualità. Adesso io, ritornando allo primo discorso, tu Allegri, ma ditemi voi, negli ultimi sette anni, ci metto anche quello di Tarly e quello di Pirlo, quale giocatore è migliorato dal punto di vista tecnico e della personalità in sette anni? Tranne l'anno scorso Danilo, che ha cambiato, diciamo, loro, ma grazie a Pirlo, e due anni fa lo stesso Di Bala con Tati quando ha fatto il miglior giocatore della stagione calcistica 19-20. Non c'è nessun giocatore che abbia fatto un salto di qualità, quindi dire questa cosa di Di Bala non ha fatto il salto, magari è stato anche penalizzato da una condizione tecnica che non lo ha favorito sicuramente se è vero la premessa. Chiudiamo con una battuta, magari non ha fatto quel salto perché fosse saltato male e rischiava di infortunarsi. Esatto. Esatto, bisognava andare con i piedi di più, hai ragione. Paolo, noi ti ringraziamo per la tua partecipazione a Juventus Una Signora per Due e continuo a seguire i social e il podcast. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie Paolo. Ciao Paolo, grazie. Grazie. Abbiamo persone che ci hanno scritto. Sì, leggiamo. Dai, uno per ciascuno. uno per ciascuno. Salutiamolo. Intanto Daniele Paletti, vediamo anche un attimo di sintetizzare e lui dice che i due calciatori per i quali ha sofferto di più sono Roberto Mettega e Michel Platini. È uno della nostra epoca. È uno della nostra epoca. Bobby Goal è stato il suo primo idolo in assoluto e Michel, perché lo definisce giustamente, dice giustamente che lui era il calcio. Per quello che riguarda una delle domande che io avevo posto era maliziosa, vale a dire il ritorno di Calvo prelude ad una esautorazione della figura presidenziale. E' un'ipotesi che resta viva e in qualche modo forse augurabile, perché se dovesse essere avvicendato alla presidenza della Juventus, molto probabilmente un nuovo presidente desidererebbe avere nuovi collaboratori e una nuova dirigenza di solito preferisce scegliere l'allenatore che preferisce anziché quello che si trova in casa. Allora, saluto anche Natale che sintetizzo un po' perché siete davvero tanti. L'unico poster a resistere nella mia stanza è quello di Platini che mi piacerebbe vedere come eventuale sostituto di Agnelli. Daniele, ne saluto un altro. Personalmente spero che a livello dirigenziale cambi più di qualcosa. Poi ancora prego Ezio Ivan Macorin dice che ha sofferto tantissimo per Zizou e per Alex Del Piero due miti della sua infanzia calcistica lui si augura che l'operato del liquidatore come io ho definito Maurizio arriva bene John Wayne John Wayne che ricordiamo nel suo meraviglioso quinquennio all'interno del barattolo rosso ha vinto una biertissima cippa ancora dai Maurizio che dice Maurizio Juve beh Michel Platini è l'addio che lo ha fatto soffrire di più le ragioni sono ovvie le puoi immaginare Andrea Fazio la dipartita di Zidane poi ancora poi abbiamo Brian Marinello che è insomma relativamente giovane rispetto ovviamente rispetto a noi perché è del 92 e anche lui è calcisticamente cresciuto con Alex Del Piero ed è evidente che il suo dio ha rappresentato uno spartiacque del suo del suo amore tecnico diciamo Davide Rava che ci fa una domanda e dice posto che arriva bene sia un liquidatore perché allora hanno acquistato Vlaovic a gennaio perché si è spaccato Chiesa caro amico Davide Rava quella era una lacuna comunque una voragine o lo prendevi o lo prendevi esatto cioè non c'erano vie di mezzo perché se no saremmo stati davvero in crisi non siamo entrati lo stesso in Champions ma almeno abbiamo potenziato la squadra con qualche speranza in più questo è poi dipende anche da come lo paghi nel senso che se cominci a tagliare a destra manca per riuscire a pagare siamo da capo cioè prima ci mancava un autentico centravanti una vera prima punta adesso molto probabilmente ci manca una vera seconda punta perché per quello che mi riguarda Paolino Di Bala non era parlandone da vivo voglio dire uso l'imperfetto uso l'imperfetto riguardo al suo passato giuventino non è mai stato intanto un tuttocampista non era un trequartista non era un esterno destro e nemmeno e nemmeno un playmaker era una seconda punta e una seconda punta da 113 gol io faccio fatica a pensare dove possano reperirla non lo reperiranno allora Ezio tempo scaduto su Torino calano le ombre della notte stanno calando le ombre della notte le luci sono ormai affievolite stay tuned come dice state sintonizzati perché ancora la prossima puntata sarà dedicata totalmente a voi sì forse anche ancora di più di quanto già siamo riusciti a fare questa sera la domanda è ce la facciamo fare perché suona la campana e l'ultimo cosa deve fare cosa deve fare l'ultimo chiuda la porta chiudiamo la porta alla prossima è finita è finita match sostanzialmente equilibrato il triplice fischio finale manda Maletto e Tadorni negli spogliatoi gioventus una signora per due grazie a tutti